Cos'hanno in comune secondo te queste tre parole? Il cane, la nonna e il risparmiatore. Quando faccio questa domanda in aula, la gente rimane molto perplessa e comincia a dire ma la fedeltà, la simpatia. No, ok. Allora, partiamo dal cane. Se tu dai dieci ossa a un cane, secondo te li sotterra in una sola bucca o fa dieci buche diverse? La risposta è fa dieci buche diverse. La nonna. La nonna, l'abbiamo avuto tutti, no? La nonna faceva la stessa cosa. Prendeva i soldi della pensione, li distribuiva in varie rotolini o buste differenti e li spargeva in dieci posti diversi della casa. Questo perché, esattamente come fa il cane, se dovesse arrivare un predatore trova un nascondiglio, trova due nascondigli, trova tre nascondigli ma non trova tutte e dieci le ossa. La nonna faceva lo stesso ragionamento. Quindi prendeva le sue dieci buste e le nascondeva in dieci posti diversi della casa. Ecco, il risparmiatore moderno si comporta esattamente come il cane e come la nonna perché questo deriva da un istinto animale, ho pensato. Ci sono arrivata per ragionamento. E l'istinto animale del risparmiatore gli fa pensare che sostanzialmente dare tutti i soldi a un solo consulente potrebbe essere pericoloso perché, metti che il consulente è un possibile predatore, ok? Quindi che cos'è che ho capito? Una domenica mattina mentre cercavo di capire e di ragionare sul perché i risparmiatori non dessero tutto il portafoglio a un singolo consulente. E poi ho cercato di capire, una volta individuato quale poteva essere la motivazione e ho cercato anche di capire che soluzioni potevo mettere a vostra disposizione. Ed è da lì che sono nati i salotti finanziari. Sono nati da questo presupposto, ok? Dopodiché ho cominciato a pensare come dovevano essere svolti e perché era fondamentale per voi passare da possibili predatori a relatori, ok? Quindi i salotti finanziari sono nati per questo, per togliere qualsiasi dubbio al possibile risparmiatore che dall'altra parte ci possa essere un predatore, ma bensì trasformare il predatore in un relatore, quindi in un esperto, quindi in una persona di fiducia. Questo è il motivo per cui ho fatto nascere i salotti ed è il motivo per cui i salotti dovete farli voi personalmente, cioè tu devi andare a parlare, non puoi mandarci il manager perché sei tu che devi passare da predatore a relatore, ok? Seguimi nell'arco di questa fase perché cercherò di spiegarti come funzionano i salotti. Chiaramente un libro è sempre un libro, ok? Quindi non sarà facile capire esattamente come funziona un salotto perché poi la parte delle slide non è la più semplice, no? Cioè come si fanno le slide, che contenuti metterci, come creare emozioni, eccetera, eccetera. Seguimi nella fase.